Ben trovati al meteo, dopo un brevissimo inizio di settimana soleggiato torna il maltempo sul nostro territorio. Un profondo ciclone mediterraneo porterà nuove piogge, venti burrascosi, mari agitati e dunque possibili locali criticità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 16 maggio è eloquente, avremo condizioni spiccatamente instabili con precipitazioni diffuse e in alcune fasi persistenti e di moderata intensità. Non escluse delle parziali schiarite nel corso del pomeriggio sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge intermittenti da moderate ad abbondanti. Temporane schiarite anche in questo caso sulla costa, dove però soffierà Boraforte, con raffiche anche oltre i 100 km orari a Trieste. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà coperto con precipitazioni diffuse a tratti anche intense. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Grazie.